Vetrina d'eccezione a Roma per Marinando, la campagna di sensibilizzazione scolastica sul mare e le sue risorse promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che da 13 anni si svolge ad Ostuni. Nella prestigiosa cornice del Salone Margherita in occasione del primo Marinando Roma Fest sono andati in scena i tre spettacoli vincitori dell'edizione 2011, sul palco le scuole di Savona, Torino e la Spezia. Ogni estate infatti nella città bianca, studenti tra i 10 e i 14 anni insieme ai loro insegnanti partecipano a due concorsi per la realizzazione di un soggetto teatrale e di uno spot sui temi del mare e della pesca. Siamo molto lieti di ospitare il Ministero con questa meravigliosa iniziativa che tra l'altro dal 2005 ormai si apre anche al bacino del Mediterraneo, quindi non solamente avere 500 ragazzi da tutte le scuole medie d'Italia ma anche ragazzi che vengono da tutto il bacino del Mediterraneo, quindi la Puglia e Ostuni in particolare che si apre un po' a tutto il Mediterraneo. Ostuni è una sede nobilissima che ha una tradizione marinara antica e può sicuramente simboleggiare come altre località peraltro le marinerie italiane tutte nel loro insieme. Ad Ostuni tutto è pronto per l'edizione 2012 che sarà aperta per la prima volta anche agli studenti delle scuole superiori.